Non mi riprende pure a me? No, ma si fai detto. Vieni, Monia, metti le medaglie. Aschidatelo a me. Eh, ora te le dico. Andre, che hai vinto? Arrivo! Ah, io. Sta a farlo spagnolato, lì, lì, lì. Non mi fa? Che hai vinto, perché è qui, eh? Perché sono rimasti? Chi sei rimasti? Ma dove stanno i fratelli di Maire? Stanno, stanno la nuova macchina. E chiamateli. Eh, a te, a te. Siamo inquidati, io non sono fatto un cazzo. Ma non è vero. Ma infatti, ah, lei... Allora, mi tolgo. Ma ha detto, Mon, metti le medaglie. Oh, l'ha visto lo zainetto? Le ho lasciate via. No, no, l'ho messo sul tavolo. Il tuo, dentro c'è un regalino mio. Allora. Le denunciamo, sì, ragazzi. Aspetta, stanno arrivando. Come stanno i libri? Facciamo il video della consegna del libro? Che cazzo? Eh, non c'è. Non c'è, non c'è. Eh, ho capito. Andate qui con il carrellino qua. Dai, Gesù, siete i primi e i secondi. Ah, 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 ah. Allora. Giriamo la classifica. Anche io e Diego abbiamo fatto la gara. Purtroppo mi ha fregato per un secondo e dieci. con mio dispiacere, ma siamo pure in classifica. Premiamo la classifica semi-auto e premiamo al quinto posto con una bellissima bottiglia di vino, ma io sto aspettando ancora le mozzarella di Bufali. Fulvio Miele. La sorella arriverà. Grazie. Stai incazzato? Che ci fai? No, sei pure una macchina scassata. Eh, gli sei da una botta quando ci è arrivato? Che sposto te? Allora, al quarto posto Giovanni Maira. Allora, ma si beve anche oggi. E anche oggi si beve. Al terzo posto Lucenone. Nazionale. Grande, Lucia. Ho anche la medaglia. Hai pure la medaglia. C'è il podio? C'è la medaglia, c'è. Hai anche il vino. Bacio accademico. C'è anche il vino. Il bacio accademico lo mangiare non è la prima. Al secondo, Matteo Maira. Ehi. Non c'è veramente? Eh? La saluta. La saluta. Al vino, lo vuoi? O ti bevi quello di palido? Se beve, se beve. Al primo, Fabio Imperiali. Al vino a lui non glielo do. Grazie, grazie. Ok. Passiamo al Bolt Action. Quinto posto, Ezio Pace. Quarto posto, Giuseppe Di Miria. Al terzo, Caprarese Cristiano. Secondo, Moreno Di Pietro. Al primo, alla sua prima gara, al suo primo esordio, Giovanni Leopardi. Allora, io volevo spendere due parole, due, dicendo semplicemente questo. Questo libro, che è stato ed è un successo attualmente, io l'ho avuto come ispirazione, per scriverlo, proprio da Fabrizio, perché vedendo le sue cartucce, ho capito che... Pensavo un complimento fosse, ma in realtà... Un grosso complimento. Ho capito che c'era bisogno di dare qualche indicazione, almeno basilare, per farle come minimo dei centri, quindi per me è un grossissimo onore consegnarlo. Grazie. Poi forse lo facciamo leggere anche a Diego. Con dedica. Diego guarderà le figure. La dedica, tutto quello che ho imparato di non banale, l'ho imparato qui da Fabrizio. Grazie. Grazie. Vabbè, ora fuori dal cazzo e non mangiamo. Non mangiamo. Grazie.